Tanti chiacchiere da VAR abbiamo speso per sapere qual è la vera essenza del motociclismo C'è chi dice che è dare gran gas in pista Oppure divertirsi nella polvere Oppure ancora portare la tua moto su incontinenti sconosciuti O più semplicemente saltare in sella dall'altra parte del mondo C'è chi dice trovare panorami come questi Ed emozionarsi ancora in silenzio Oppure rubare tempo alla famiglia E guidare su una strada deserta all'alba Da soli, col proprio stile, senza nessuno che ti stressi la vita Oppure smanettare con una musica strana nel tasto che puoi sentire solo tu Il motociclismo è la somma di tutte queste cose Anzi, probabilmente molto di più Facci sapere qual è la parte del motociclismo che ti fa battere il cuore Noi faremo lo stesso Perché dai, alla fine la moto è emozione La moto ti fa attraversare il mondo Non ti fa guardare dentro il finestrino Profumi, sole, acqua, pioggia, polvere Cose belle La moto è questo È passione pura La moto è saltare in sella È stare ore in garage a pulire quel cerchione che non vuole venire pulito È raccontare ai tuoi figli, ai tuoi amici di un'avventura bella solo per il fatto che l'hai vissuta in sella Ti racconteremo la moto e il suo mondo Accessori, caschi, giubbotti, i nostri test ride Da motociclisti normali Senza esagerare, senza fronzoli, senza preconcetti, senza campanilismi Per il solo piacere di saltare in sella e provare ancora delle emozioni vere A moto mio Noi come voi Noi come voi